buongiorno villici buongiorno direttore buongiorno maestro oggi roma serenitana siamo in partenza per roma il direttore ci dà questa splendida ma che trasferta con noi oggi c'è la baccaro prego si accomodi dietro con l'amico antico romano via si parte ma chi è Enrico se vuoi scendere puoi scendere a dove tu vuoi ma scendere ma si mi lasciamo sulla luce questo è un canzone 20 minuti nel traffico possiamo dirlo per noi il sogno carbonara finisce qui la causa un incidente tra cepprano e ferentino e piuva allora vai roma serenitana si gioca qua prego piove non la cosa ci ha messo i oltri dei vetri la mia E' un'altra cosa che ti fai, ma che ti capi in merda, che lei è?